Domani si giocherà l'ultima partita del 2014, poi sarà mercato. Ci sono diversi giocatori del Pescara, Presidente, che piacciono a molte formazioni. Melchiorri è seguito dal Palermo, però il Pescara ha già detto di no. E poi Sowe sarebbe vicinissimo a Latina. Intanto questo significa che evidentemente gli uomini in mercato del Pescara non hanno sbagliato a giugno. Perché se ci sono tanti giocatori che sono seguiti da club di Serie A, soprattutto evidentemente sono giocatori bravi. Però noi non dobbiamo sfasciare nulla di quello che abbiamo costruito e di quello che stiamo costruendo anche per il futuro. È chiaro ed evidente che poi ci sono anche sempre i giocatori e la volontà dei giocatori, però ritengo che il Pescara per la stragrande maggioranza dei giocatori rimarrà quello che è fino a oggi. Poi, come ho sempre detto, è sicuramente una rosa lunga e importante. Ci sarà qualcuno che chiederà più spazio, chiederà di andare via, ma lo valuteremo. Questo senza fare regali a nessuno, perché il Pescara non regala nulla a nessuno. Bisognerà però un po' sfoltire un organico numericamente troppo vasto. Sì, ma non dobbiamo buttare nessuno fuori dalla porta. Non c'è nessuna fretta. Ripeto, è una squadra che si sta formando partita dopo partita. Lo spazio finora c'è stato un po' per tutti, anche se qualcuno ha giocato un po' meno, ma non solo per chi ha trovato meno spazio, ma anche per infortuni. Parlavi di Soe, sono tre settimane che è praticamente a letto con un principio di bronchite, quindi non dipende neanche dall'allenatore. E' chiaro che questo è uno dei giocatori che ha trovato meno spazio fino adesso. Probabilmente si farà un discorso, però non è detto che debba andare via.